Noi abbiamo avuto oggi una comunicazione combinata tra la Prefettura e l'ASD che parla ad oggi di 6 contagiati nella città di Bitonto più 13 in isolamento. Abbiamo anche visto i dati della protezione civile dell'Ares che sono stati comunicati dalla regione che pone la nostra città in una fascia tra 20 e 50 positivi. Questo è da leggere con il fatto che ovviamente ci sono delle persone, magari parenti dei contagiati che hanno fatto il tampone e risultano positivi ma sono rimasti a casa in quanto asintomatici o semplicemente vengono curati a casa perché i sintomi del virus non sono così incisivi. Questa è la situazione attuale, non è una situazione drammatica ma è sicuramente una situazione in linea con la preoccupazione generale. Le bufale che si stanno inventando in questi giorni sono veramente spiacevoli, completamente fuori posto e fatte sulla pelle delle persone, tipo persone positive che svengono in un supermercato, non andate a quel supermercato, persone che vengono indicate come defunte a ripetizione per il coronavirus. Non sono cose degne di un paese civile, vi ricordo che ci sono anche le esposte della Procura della Repubblica per procurato allarme in questi casi che sono veramente fuori posto. Un in bocca al lupo a tutte le persone che stanno soffrendo in questo momento per il virus e che non sono state trattate bene dalla nostra comunità che si è più che è autopreoccupata di catalogarle, di chiedere il nome e cognome, di andare a inseguire i parenti. Queste sono situazioni che devono ripercorrere le autorità competenti per limitare il contagio a tutti gli effetti. Io spero a breve di dare delle notizie positive per quanto riguarda anche le guarigioni dei nostri concittadini. Spero che i parenti siano particolarmente ligi nel rispettare l'isolamento domestico perché ovviamente abbiamo sia io che loro tutti una grande responsabilità nei confronti della nostra comunità e spero che voi ci aiuterete a creare un clima costruttivo soprattutto sia restando a casa come ho detto e evitando le code ai supermercati perché io non ho il potere di chiudere i supermercati, non ho il potere di imporre gli orari alle attività commerciali, quindi questa è un'altra cosa che ci tenevo a dire, siamo noi che abbiamo invece il potere con le nostre scelte di regolamentare come giusto la vita delle nostre città.